Oggi questa è stata l'occasione insieme al sottosegretario Cattaneo per mettere al centro un modello di sviluppo sostenibile che passa attraverso la cooperazione e parliamo di uno sviluppo sostenibile a livello globale e quindi il modello Lombardia con tutti i suoi attori, oggi intorno a questo tavolo c'erano tutti gli attori territoriali, gli attori istituzionali che possono fare della cooperazione una rete, una rete che porta sviluppo, una rete che porta relazione umana perché l'importanza del costruire relazioni umane in una stagione come questa particolarmente difficile, come sempre il modello Lombardo è al centro che diventa un modello da portare anche nel sistema nazionale e che porta tante eccellenze soprattutto nel campo della cooperazione internazionale che possono e devono fare sinergie per portare quello sviluppo sostenibile che è fatto di persone. Penso che sia anche un po' il tema di questa tavola rotonda che parla di progetti e non di risorse economiche che sono il fine, non è la partenza. Allora noi qui oggi portiamo avanti progettualità, poi le buone progettualità trovano sempre le risorse economiche per essere realizzate ma prima di tutto ci vuole la capacità del dialogo, io ho detto che cooperazione è costruire una rete, oggi insieme al sottosegretario Cattaneo abbiamo costruito partendo da Regione Lombardia questa rete di attori. Oggi mi ha voluto portare a Milano qui in Regione Lombardia insieme a tutti i protagonisti delle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, quindi certamente le organizzazioni non governative, le organizzazioni di cooperazione sociale ma anche il mondo delle attività di categoria, gli enti locali, le università, realtà già impegnate in questo ambito e le abbiamo fatte incontrare con il direttore generale del Ministero degli Esteri e con il direttore generale dell'Agenzia Italiana per la cooperazione allo sviluppo perché insieme a loro la nostra iniziativa possa diventare parte della cooperazione italiana e anche utilizzare gli strumenti e le risorse che la cooperazione italiana mette a disposizione a cominciare dal bando aperto dall'AIS che stanzia 60 milioni per progetti degli enti locali ma nella prospettiva del piano Mattei che mette a disposizione risorse molto più significative 5 miliardi e mezzo come ha ricordato la Presidente Meloni e dunque la Lombardia vuole e deve essere protagonista di queste opportunità e lo vuole fare insieme al proprio sistema imprenditoriale, accademico e delle organizzazioni sociali Per quanto riguarda il bando AIS noi faremo il capofila come abbiamo già annunciato di due progetti, due è il numero massimo di progetti di cui possiamo essere capofila uno verso la Tunisia e uno verso la Tanzania e vorremmo essere parte di un terzo progetto verso l'Albania perché anche l'area dei Balcani è importante l'Africa è l'area più significativa perché sono destinate all'Africa l'85% delle risorse ma noi vogliamo dare importanza anche ai Balcani di questo progetto dovrà essere capofila un ente locale dopodiché però vogliamo fare un salto di scala e quindi dopo aver colto le opportunità del bando dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo vogliamo come abbiamo detto oggi cogliere le opportunità del piano Mattei costruendo in Lombardia un grande progetto un grande progetto vuol dire un progetto di alcune decine di milioni forse anche potenzialmente parliamo di centinaia di milioni di euro che sia il progetto del sistema Lombardia con cui il sistema Lombardia coordinato dalla Regione si candida ad essere parte attiva del piano Mattei grazie a tutti